Altro allenamento, proprio total body da utilizzare con la nostra scala, mi appoggio le mani contro la scala che mi fa una sorta di freno e faccio knee up con le gambe, uno, tiri su, tiri su e la scala mi blocca, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, ancora, tira. Senti bene anche le braccia che si attivano, continui a correre, bello scatto. E stop. Un altro esercizio eccellente è proprio ballistico, andiamo a fare una mini squat sopra, jump squat anzi, su e scendo giù, due, scendo giù, tre, scendo giù. Scendo giù, quattro, scendo giù, cinque, sei, sette, otto, ancora, nove, dieci, ancora due, uno, ottima, and stop. Un altro esercizio meraviglioso, solo per i tricipiti, utilizzando la nostra scala. Scendiamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due. Ricupera, poi ripeteremo. Tre, due, uno, dodici. Andiamo con le braccia. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno e due. Perfetto. Andiamo a lavorare anche obliqui con la nostra scala. Scendo giù, divarico le gambe, ok? Divarico le gambe e scendo con i fianchi e salgo su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Cambiamo lato, gambe sempre divaricate, scendo giù con il fianco, uno, and su, due, addominali tesi, tre, quattro, cinque, sei, sette, trattieni l'addome, otto, nove, dieci, ancora due, due, and uno. Perfetto. Altro allenamento, proprio il total body da utilizzare con la nostra scala. Mi appoggio le mani contro la scala che mi fa una sorta di freno e faccio knee up con le gambe. Uno, tiri su, tiri su e la scala mi blocca. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, ancora. Tira. Senti bene anche le braccia che si attivano. Continua a correre. Bello scatto. E stop. Un altro esercizio eccellente è proprio ballistico. Andiamo a fare una mini squat sopra, jump squat, anzi, su e scendo giù. Due, scendo giù. Tre, scendo giù. Scendi su le gambe. Quattro, scendo giù. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Nove. Dieci. Ancora due. Uno. Ottima. And stop. Un altro esercizio meraviglioso. Solo per i tricipiti, utilizzando la nostra scala. Scendiamo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Uno. Due. Ricupera. Poi ripeteremo. Tre. Due. Uno. Dodici. Andiamo. Con le braccia. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Uno. E due. Perfetto. Andiamo a lavorare anche obliqui con la nostra scala. Scendo giù. Divarico le gambe. Ok? Divarico le gambe e scendo con i fianchi e salgo su. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Cambiamo lato. Gambe sempre divaricate. Scendo giù con il fianco. Uno. E in su. Due. Addominali tesi. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Trattieni l'addome. Otto. Nove. Dieci. Ancora due. Due. And uno. Perfetto.